www.fema.it DETERMINAZIONE! VAI ALÈ! Tutti a casa! Mi sono fatto benissimo! Mi sono andato venuta! La versione! Dai, dai! Foro! Dai! Attenzione a 15! Attenzione! Attenzione! Grazie! Aiuto! Dai la pezza! Dai la pezza! Dai! Dai la pezza! Dai! Di pezza! Dai! Dai! Numero! Abbiamo arrivato! Dai ora eh! Via! Dai Emile è nulla! Dai Emile è nulla! Dai Emile è nulla! Va bene tutto, va bene tutto! Tiriamo fuori le folle! Dai Emile è nulla! Dai Emile è nulla! Dai Emile! Dai Emile è nulla! Sei qui? È la televisione! Siamo in forma, siamo in forma! Vabbè, partiamo gli altri! Andro Luca! Diecisi dietro! Non deve succedere niente! Pippo! Pippo! Guardami! Pippo! 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 Noi vinciamo con uno! Pippo! 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 Calma, calma! Calma senza pallo! Stiamo all'angolo! Dio buono! Dio buono! L'altro! Pippo! Chi va bene? No! Non fa' lì! Pippo! Dai 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 dai! Non fa' lì! Ieri! Pippo! Dio, care! Stegliamoci di vicino! Quello là! Oh! Non ce l'ha! Farò da te! No no! Non fa' caccia! Bisogna essere concentrato! Sampata! Non sta' l'aggio! Io ne fai un antone! No no! Quanto manca oh? Quanto manca? Ah si? Dai 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 va più dietro va più dietro ci vai vai partite Rimani fermo lì, va bene così Vai un po', vai un po' E' dentro, è dentro E' 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 dentro